Un caro saluto agli amici di Caterpillar, sono Emanuele Tondi, vice sindaco del comune di Camporotondo di Fiastrone e anche il nostro comune ha aderito al patto dei sindaci per l'energia sostenibile perché crediamo che questa sia la grande sfida per il futuro, se futuro vogliamo avere. Insieme agli altri 14 sindaci del comprensorio abbiamo delegato la comunità montana dei Montiazzurri come capofila per gestire e organizzare delle azioni integrate per quanto riguarda il risparmio energetico. Quindi anche il nostro comune vuole contribuire alla riduzione della CO2 nella misura del 2020-2020. Particeremo quindi con gli altri 14 comuni all'iniziativa coordinata dalla comunità montana dei Montiazzurri e spegneremo il 18 febbraio simbolicamente per un'ora le utenze elettriche gestite dall'amministrazione comunale. Un saluto anche a tutti gli altri sindaci.